Il nome dice poco o nulla a chi non è della zona. L'Annskrona si chiama il paese di Angelo, amalfitano che vive in Svezia da 50 anni, corrispondente in pensione per diversi giornali dalla Scandinavia, moglie italiana anch'essa di famiglia trapiantata qui da varie generazioni. Io ho avuto molti racconti da parte di mia suocera che ricordava che il marito, il mio suocero, quando frequentava l'università veniva chiamato papista. L'incontro del tutto casuale capita fuori della piccola chiesa cattolica del paese, circostanza qui tutt'altro che insolita. Tra connazionali, immigrati, cattolici in un paese lontano e diverso per lingua, mentalità e pure religione, la messa domenica è una gradita opportunità di incontro. La prima è per i croati, attorno alle 9 nella loro lingua. C'è Ivan, 21 anni, nato qui da genitori profughi di guerra dalla Bosnia a metà anni 90. I tempi, per fortuna, cambiano. Qui, a differenza della ex Jugoslavia, ora non è più un problema appartenere ad una minoranza religiosa. Ho un buon rapporto con tutti, racconta. Noi non pensiamo alla religione di qualcuno, pensiamo più a chi è lui come persona. Ho molti amici protestanti, sì, ma anche musulmani. Domenica 30 ottobre è giorno di festa. Alle 11, quattro giovani ricevono la cresima per mano del Vescovo di Stoccolma, diocesi che copre tutta la Svezia. 113.000 cattolici sparsi in un territorio grande, una volta in mezzo l'Italia. Numeri piccoli e grandi distanze che il Vescovo e i sacerdoti si sobbarcano di continuo, pur di non lasciare nessuno senza Vangelo e sacramenti. Per molti che vengono qui è difficile vivere la loro fede cattolica, perché si sentono isolati. In molti luoghi non c'è una chiesa cattolica. E anche l'influsso di questa mentalità, diciamo, materialista, secolarizzata. Ma può anche essere come un'inspirazione per approfondire la fede. Alcuni dispariscono dalla chiesa, altri diventano più immersi nella vita ecclesiale. Alle 14.30 tocca alla comunità dei cattolici di lingua araba, arrivati in Svezia specie in corrispondenza di guerre e anche persecuzioni in Medio Oriente. Libano negli anni 80, Iraq nel 2003, ora dalla Siria. I bambini hanno preparato per il Papa un libro di disegni in cui un piccolo siriano che ha perso in guerra mamma e sorella le raffigura così, una croce sulla loro tomba. Ci sono delle famiglie che da anni e anni vivono in Svezia, che hanno sviluppato la loro fede, la loro fede diventa più forte. Si sentono qualche volta anche missionari in questa società per evangelizzare. Il discorso vale per tutta la Svezia. Tra i cattolici svedesi oggi si calcola che solo uno su cinque ha radici familiari nel paese. A Lund addirittura c'è una parrocchia di 3.200 fedeli registrati di almeno 88 nazionalità diverse, tutti emozionati nell'attesa della messa di ogni santi celebrata dal Papa a Malmo per questo piccolo variegato greggio di periferia. Non sempre è facile tenerlo insieme. Un lavoro quotidiano nelle parrocchie, trattare di unire tutti questi gruppi. Per esempio la messa con il Papa è una cosa importante per unire tutti i gruppi che stanno qui nella Chiesa Cattolica.